Con la Laminati Cavana Academy l'azienda si propone di formare professionisti competenti e pronti ad affrontare le sfide del mercato, rafforzando così non solo il proprio team ma anche il tessuto economico locale. Un gioco di squadra tra aziende, fornitori, istituzioni, associazioni di categorie e università perché investire sui giovani e sui lavoratori significa investire sul futuro. Le nostre aziende e le aziende di questo comparto sono umano-centriche anche se si parla di materiali, si parla di tecnologie però il vero motore propulsore è la gente, sono i dipendenti che devono essere connessi con la propria azienda e con gli obiettivi e devono avere gli strumenti anche per dare di più. Noi fortunatamente viviamo in un territorio che ha un tessuto industriale molto importante uno dei problemi di questo tessuto industriale è alimentarlo con delle risorse corrette per cui la formazione di queste risorse, sia scolastiche prima, sia aziendali dopo diventa un elemento qualificante del territorio. Quando c'è una contaminazione positiva di questo tipo tutti hanno dei vantaggi perché l'azienda si apre al mondo della formazione, le visioni, le strategie e l'università stessa non resta chiusa in un mondo astratto teorico ma incontra le realtà aziendali, il territorio e insieme davvero si fa un percorso di crescita.